La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non cessa ad esistere ma si allarga, si rasserena, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Quando si ricasa tardi non ci si può mettere a far musica troppo rumorosa e in questo modo, amica mia, imparai a suonare, quasi sempre in sordino, come se avessi paura di svegliare qualcosa. Il silenzio non compensa solo l'impotenza delle parole umane, compensa anche per i musicisti mediocri la povertà degli accordi. Mi è sempre parso che la musica dovrebbe essere unicamente silenzio e il mistero del silenzio che cerca di esprimersi. Prendete ad esempio una fontana, l'acqua monta e i miei condotti vi si ammassano e tra poco e la perla della cascata è sonora. Mi è sempre parso che la musica dovrebbe essere solo l'eccesso di un grande silenzio. Si dice che la musica sia l'universo dell'anima e può darsi che lo sia davvero, amica mia. Questo prova semplicemente che l'anima e la carne non sono più separabili, che l'una contiene l'altra, al modo con cui la tastiera contiene i suoni. Il silenzio che succede agli accordi non è per nulla un silenzio ordinario, è un silenzio attento, è un silenzio vivente. Molte cose insospettate vi sbigliano in noi a favore di questo silenzio. E non sappiamo mai cosa ci dirà una musica che finisce. Un quadro, una statua, anche una poesia ci presentano idee precise, che abitualmente non ci conducono più lontano, ma la musica ci parla di possibilità senza confini.